Divertirsi imparando come nascono le leggi, come è fatta l'aula, dove si trova Palazzo Lascaris e quali arredi sono presenti nelle sue sale. È il gioco interattivo online sul sito del Consiglio regionale, pensato per ragazzi di età compresa fra i 6 e i 14 anni, realizzato in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, IED, di Torino. L'iniziativa è stata presentata agli alunni di due classi quinte della scuola elementare del Terzo Circolo di Chivasso. L'OIED è molto interessato a realizzare questi tipi di collaborazione, non solo con le istituzioni, per ovvi motivi, ma anche e soprattutto perché permette ai nostri ragazzi, ai futuri professionisti del design, di provarsi realmente sulle cose e quindi accrescere la loro capacità. Abbiamo fatto questo gioco, ci è stata presentata l'idea da Palazzo Lascaris. In pratica questo gioco consiste nel far scoprire ai ragazzini un po' di storia del palazzo, comunque anche elementi, sale e altri elementi. Abbiamo lavorato in team, eravamo sei ragazzi, ci ha preso tutto il corso e speriamo che i bambini si divertano e facciamo giocare loro.